E' 9 e mezzo della mattina, portavo fuori il cane come tutte le mattine. Sono entrata qui vicino, che piangeva, mi ha chiesto aiuto, mi ha spiegato quello che è successo, che l'hanno aggredita, prelevata in via Masaccio e lasciata qui sulla via retina, la borsa ce l'aveva, poi hanno parlato a Carabinieri con lei, che cosa si sono detto, questo non lo so. Quello che poteva sembrare il giallo di Natale si è rivelato essere il frutto di un banale litigio. Nessuna rapina, né tantomeno sequestro ai danni di una giovane peruviana trovata per strada, in lacrime, la mattina di Natale a Ellera. I Carabinieri hanno fatto luce sulla vicenda, spiegando che la ragazza era a casa di un'amica, che tuttavia non ha saputo o voluto indicare, la quale ha chiamato due ragazzi per farla accompagnare a casa. Nel tragitto i due hanno litigato con la peruviana e l'hanno scaricata per strada. Poco dopo sono tornati sul posto nuovamente e le hanno dato la borsa e il telefono che aveva lasciato in macchina. Nessuna aggressione dunque, anche se gli abitanti della zona di Ellera, frazione del comune di Fiesole, lamentano un peggioramento della situazione sicurezza. La zona sta diventando molto critica da un punto di vista di legalità. I tempi sono stati due o tre furti, anche dietro la parte di noi, poi hanno rotto dei vetri alle macchine e cose varie. Tra parenti di noi abbiamo avuto sempre dei controlli ai garage, controlli nel senso che hanno guardato dentro che cosa c'era e tutto. E questa è una situazione molto critica.